A due anni dall'apertura della prima pizzeria Cassina De Pecchi e a un mese da quella di Monza, la storia di Pizzout è arrivata fino a Bruxelles, al punto che il Parlamento europeo avrebbe deciso di insegnare il fondatore Nico Campora con il premio di cittadino europeo dell'anno. Io andrò volentieri al Parlamento europeo a parlare di autismo e lo farò con i miei ragazzi, anzi spero addirittura di cucinare per i parlamentari europei, perché in Europa ci sono 6 milioni di persone autistiche e decisamente sono troppo trascurate dalle istituzioni, quindi ci vuole un impegno e una marcia diversa. La sede di Pizzout a Monza, aperta al pubblico lo scorso primo maggio, si sta già rivelando uno straordinario successo. Le serate dei prossimi mesi sono già sold out, i ragazzi autistici al lavoro sono una ventina, con alcuni di questi con un contratto a tempo indeterminato e soprattutto i clienti stanno mostrando un contagioso affetto verso un ristorante che unisce la qualità dei propri piatti, allo spirito di inclusione del progetto. Monza sta andando straordinariamente bene, la Brianza e Monza stanno rispondendo in maniera egregia, anche perché noi facciamo la pizza più buona della galassia conosciuta, però c'è tanto affetto, tanto desiderio di conoscere il progetto, tanto desiderio di mangiare questa pizza e di condividere con i ragazzi un'esperienza. Pensate che per venire la sera, in questo momento, chi prenota oggi trova posto a luglio, settembre, visto che agosto chiuderemo. Quindi è davvero meravigliosa la risposta della Brianza e di Monza.